cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro senten chan in diretta dal vivo chissà quanti di voi mi sentiranno dal vivo qui sono le 11 31 il tema di giorno del giorno d'oggi come l'ho scelto beh è stato facile visto che ogni tanto lo consulto in internet si sono spese migliaia di ore di video a discutere ciò di cui discuterò io oggi nel mio monologo si sono fatti centinaia di video migliaia di pagine ho consultato molto materiale in internet si direbbe che è una delle cose più importanti e prioritarie per la gente nella rete stabilirlo quindi anch'io ho voluto esprimere il mio giudizio merito il tema del giorno è iOS ovvero iPhone contro Android cioè i melafonini contro gli smartphone della Android ci sono molti fanatici della Apple che dicono che l'iPhone è sempre migliore e ci sono molti fanatici dell'Android che dicono che i cellulari Android sono sempre molto migliori poi magari che è migliore una o un'altra marca che usa il sistema operativo Android chi vi parla San Ten Chan vi sta parlando perché voi lo possiate sapere da un Motorola Moto X seconda generazione non ho mai avuto un Apple in vita mia ma non è perché io mi rifiuti di avere un Apple comunque il mio primo smartphone che è venuto in promozione con il secondo computer che ho comprato nel 2010 perché mi si era bruciato nel 2006 il mio primo computer per poter navigare in internet che navigavo col primo computer col modem telefonico a 56 kilobit poi ho avuto la banda larga e adesso col mio terzo periodo in internet che continuo ad avere il secondo computer per fortuna che non mi si è bruciato ancora ho la banda larga wifi vabbè che a molti di voi gliene può fregare di meno perché non è questo di cui devo parlare adesso per il mio primo smartphone diciamo così smartphone è stato l'LG KP 215 che l'ho comprato perché me l'hanno scontato di un 80% poi e questo nel 2010 poi nel 2013 per mio compleanno di gennaio 26 gennaio mia madre mi compra un Samsung Galaxy Young 5360 un cellulare che è uscito nel 2011 quindi capirete che già nel 2013 i primi mesi ho sperimentato che c'aveva poca memoria interna ho voluto ampliarla con una micro SD di 32 gigabit ma ho scoperto che non serviva a dargli più memoria all'apparato soltanto a avere un riservorio di musica foto filmati e qualche applicazione esterna poi dopo un anno di uso quella memoria si è bruciata adesso vi sto parlando con il cellulare che mia madre mi ha regalato per Natale 2015 già mi sembra fine ottobre me l'ha regalato e compleanno 2016 perché è costato un bel po' io a tutti consiglio di comprare se potete un flagship cioè una nave in segna perché i migliori cellulari non importa di quale marca siano sono quelli più ben definiti ben curati e che riceveranno più attualizzazioni io adesso ci ho installato Marshmallow 6.0.0 ma adesso vi racconto il mio punto di vista in base a quali criteri io sceglierei un cellulare, un telefono intelligente uno smartphone o qualsiasi altro prodotto elettronico o Nokia sia innanzitutto il mio budget è sempre limitato quindi non posso prescindere da quello che sono disposto a spendere anche perché considero che se cerco di risparmiare come mi è successo con un tablet Eurocase mi è durato solo otto mesi poi l'ho dovuto portare quattro volte alla garanzia di fabbrica quattro volte alla garanzia stessa e una volta che era ben riparato nell'hardware gli è saltato quel difetto che si chiama Systemui Has Stopped e dopo molte volte di cercarlo di correggerlo riportandolo alla fabbrica adesso non passa dall'icono del robottino verde quindi si è rotto quindi vi consiglio di non comprare nulla di economico né di fascia media anche se ho avuto una buona esperienza con il Galaxy Yung 5360 che a prescindere dal fatto che ha una memoria molto limitata che quasi già non serve più come cellulare per avere molte applicazioni continua a funzionare benissimo quindi dipende anche dalla marca ma vi consiglio di comprare un flagship adesso rispetto a quale comprare io sono molto liberale nel senso che io quando mia madre mi ha detto per Natale ti compro un cellulare io ancora ero diffidente dei cellulari con batteria fissa e senza scheda di espansione di memoria avrei comprato un Samsung Galaxy sì un Samsung Galaxy Note 4 perché secondo me è addirittura migliore del Note 5 però costava molto e il nostro presupposto si limitava ad arrivare a un Motorola Moto X seconda generazione del 2014 che è stato poi quello che alla fine ho comprato perché avevo valutato anche come alternativa di comprare un Samsung Galaxy Note 2 un Samsung Galaxy Note 3 ancora costava molto poi è scesso di prezzo un Galaxy S5 quindi alla fine ho preso il Moto X seconda generazione e non me ne pento perché è un buon cellulare il mio criterio quindi si fondamenta sulla razionalizzazione della spesa in basso al presupposto che ho spendere poco ti può portare a delle delusioni spendere di più beh arrivi a indebitarti magari nella vita si hanno molte spese da affrontare e non sempre si ha un'abbondanza di denaro quindi come diceva Sakiamuni Buddha il cammino mediano la via mediana marga vaga o un qualcosa del genere è la via regale perché non bisogna né eccedere in difetto né in eccesso quando ti compri qualcosa buono spendendo una buona quantità di denaro però che non presuppone un salasso per le tue tasche e quando non compri un qualche cosa rimanendo molto corto nella spesa che poi te ne penti perché non puoi caricare video in Instagram in Vine un termino medio che sia buono e che non ecceda le tue possibilità perché è logico che se il tuo budget ti permette senza problemi di comprare un cellulare di due o tre mila euro che per te non sono nulla perché magari per te un cellulare caro è superiore a quella cifra allora compra un cellulare di due o tre mila euro c'hai la fortuna di poter spendere molto e per te quel molto non è molto allora sì se io avessi un budget superiore ai due mila euro per comprare un cellulare non ci penserei due volte invece io ho dei limiti e per me 400 euro sono molti moltissimi e devo rispettare quei limiti e entro quei limiti scelgo è logico se invece vincessi la lotteria magari 400 milioni di euro potrebbe pure succedere che mi comprirei un cellulare di 4 mila euro però ecco posso sognarlo ma non succederà mai comunque in nord america per esempio a volte fanno delle liquidazioni pazzesche di più del 50% allora che succede facciamo conto che io ho un presupposto appena per comprare il motorola moto iz seconda generazione neanche per comprare un samsung galaxy note quinto o quarto vado nel negozio dove ho letto prima nella pagina web tutti i prezzi tutti i modelli e vado con i soldi giusti per comprare il cellulare che sta alla mia portata che è un android e lì il commesso mi dice guardi solo per oggi per esempio un apple iphone 7S plus lo vendiamo con un 80% di sconto e poi abbiamo anche un blackberry passport golden edition che anche quello lo vendiamo a un 90% di sconto che in teoria costerebbero come il cellulare che io mi vado a comprare magari un motorola moto iz seconda edizione secondo voi mi comprerei lo stesso un moto iz seconda edizione a 400 euro o magari mi lascerei tentare e comprerei il blackberry passport golden edition a non so 200 euro o un apple iphone 7S plus a 180 200 euro secondo quanto detto da me in precedenza è facile ad esumere che della marca del modello a quel punto me ne fregherebbe proprio nulla e quindi mi lascerei trasportare dalla convenienza e quindi certo io magari di solito preferirei anche in base al costo prendere un motorola moto iz seconda edizione perché i blackberry passport sono cari e sono strani ma ma se me lo offrono alla metà o a un quarto nuovo e chiuso nella sua scatola è nuovo del cellulare che io comprerei perché arrivo col denaro a comprarlo neanche ci penserei due volte addirittura neanche ci penserei una volta a tornare a casa con un buon blackberry passport silver o golden edition avendo risparmiato più del 50% sul presupposto che ero disposto a spendere per un moto iz seconda generazione e questo vale anche se si trattasse di un apple iphone io non sono fanatico della marca o del sistema operativo o del modello di cellulare sono molto aperto a ogni evenienza soprattutto per esempio considero che non sia eccezionale la camera del moto iz seconda edizione certo era meglio la camera del samsung galaxy notte quarto però il note quarto costava la metà in più del moto iz seconda generazione quindi io ho calcolato che mi sarei dovuto indebitare finanziariamente per prendere il galaxy note quarto invece avevo soldi incontanti per comprare il moto iz seconda edizione e quindi i difetti che può avere nella camera il moto iz seconda edizione glieli perdono perché la relazione qualità prezzo tende molto nei confronti del prezzo cioè si risparmia se invece il moto iz seconda edizione fosse costato molto di più del note quarto o avrei comprato il note quarto o non avendo più denaro di quello che mi è servito per comprare il moto iz seconda edizione se fosse per esempio se io avrei incontrato invece del moto iz seconda edizione il moto iz style che è la terza edizione non avrei potuto comprare né il moto iz style né il galaxy note quarto ma avrei potuto comprare uno dei due flagship della hyundai il ultra air o un altro che addirittura ha 13 megapixel di camera e quindi avrei comprato un hyundai cioè la mia politica è comprare sempre un flagship un modello superiore e se una marca è troppo costosa allora prendi il flagship di una buona marca che sia meno costoso così c'hai il cellulare di una marca che comunque è buono perché tanto motorola come samsung come lg come sony sono buoni c'hai un modello superiore perché c'avrai anche una migliore attualizzazione se prendi un modello mediano magari non lo attualizzeranno tante volte come un modello di alta gamma e in più scegliendo la marca puoi spendere di più o di meno a seconda che il tuo budget te lo permetta quindi è logico che i cellulari per il momento motorola che da poco ha iniziato a fare flagship sono meno cari dei flagship samsung e lg e quindi se non avessi avuto denaro sufficiente per prendere un moto it seconda generazione avrei passato una marca meno cara ma avrei comprato il modello più caro cioè un hyundai o un nacer o qualsiasi altro cellulare però scegliendo sempre il modello più caro e quindi sarei sceso nella gradazione della marca però avrei preso il modello più caro perché sarebbe stato sempre più seguito più attualizzato magari l'assistenza migliore nei flagship e quindi questo è il mio contributo alla perenne discussione che c'è in internet in youtube in facebook fra fanatici a oltranza della mela morsicata di Cupertino e fanatici degli android nei vari cellulari dei vari modelli delle varie marche che gli uni dicono che è migliore l'app e l'iphone perché l'iOS non ha frammentazione invece gli altri gli amanti del dell'android dicono che è proprio un pregio e la frammentazione perché uno si può scegliere in basse ai suoi gusti personali e al suo presupposto cellulare di fascia media bassa ed alta che abbiano lo schermo grande piccolo la camera potente meno potente due nuclei quattro nuclei otto nuclei eccetera quindi gli uni vedono nel sistema operativo che amano dei pregi e nel sistema operativo che non amano dei difetti laddove nei pregi che riconoscono gli altri avere il proprio sistema operativo vedono dei difetti e i difetti del proprio sistema operativo li prendono come dei pregi io invece sono scevro da tutte queste limitazioni io vedo solo convenienze e per esempio si è parlato molto bene quando è uscito di un cellulare nokia il pure view 808 se io lo trovassi nuovo chiuso nella sua scatola nel suo astuccio e lo potessi comprare a un prezzo in risorio nuovo chiaro lo comprerei non non me ne fregherebbe che fosse un cellulare ormai vecchio obsolescente con poca memoria perché la camera di quel cellulare è eccezionale fa dei film e delle foto eccezionali quindi se uno ha un basso presupposto l'importante è accedere a dei beni e a dei servizi che siano alla sua portata poi certo ci possono essere delle limitazioni con il pure view 808 della nokia non puoi probabilmente usare l'applicazione di instagram divine eccetera però ti dico devi tenere in considerazione il tuo presupposto economico poi scegli e se c'è un'occasione buona magari di un cellulare che comunque è molto versatile ti puoi prendere magari un un galaxy note 2 o note 3 se lo trovi nuovo chiuso nella sua scatola perché magari continua a essere un cellulare buono a prescindere da essere uscito nel 2012 o nel 2013 io ancora continuo a utilizzare anche se molto poco perché sto più attaccato al mio moto it seconda generazione il cellulare che nel 2013 mi ha regalato mia madre il samsung galaxy young 5360 ancora continua a funzionare ancora compie con quello che deve compiere e certo c'è scarsità di memoria 180 megabit di memoria interna per usuario contro i 32 gigabit che c'ha il moto it seconda generazione e il galaxy young 5360 una pulce di cellulare una formica però ancora funziona molto bene quindi per l'epoca quando è uscito il note 2 era un cellulare straordinario perché aveva due gigabit di memoria interna di usuario chi non ha molto denaro scelga per quello che gli conviene è logico che se io ho un certo presupposto vado a comprare un cellulare lo voglio samsung lo voglio android lo voglio lg e nel negozio mi dicono no no guarda solo per oggi l'apple iphone 7 s plus lo vendiamo non a 1000 euro ma con un 70% di sconto quindi a 300 euro magari lo compro perché ero disposto a spendere 500 euro in un samsung allora perché devo spendere 500 quando posso spendere 300 poco me ne fregherebbe se è android o no se è samsung o se è apple lo stesso vale per il blackberry vado disposto a comprare un cellulare a 400 euro e mi dicono solo per oggi in questo negozio vendiamo il blackberry passport silver edition a 180 euro che è un cellulare strano con schermo quadrato non tutte le applicazioni android corrono bene anche perché con lo schermo che ha e poi le devi caricare da amazon non so come funziona invece di avere la la possibilità di scaricare da da google scarichi da amazon le applicazioni android vabbè una cosa strana però se risparmio così tanto che se ne vadi a fare fotere la marca o il sistema operativo del cellulare posso anche comprare un window phone perché adesso la nokia direttamente li produce con il marchio microsoft potrei prendere se me lo vendessero a un giusto prezzo un prezzo da me accessibile un lumia 950 izel perché no non deve per forza essere android o essere di una marca specifica adesso io vi sto parlando da un motorola moto iz seconda generazione ma se quando fossi andato a comprare questo cellulare perché avevo il presupposto per questo cellulare mi avrebbero venduto anche alla metà di questo cellulare un nokia lumia 950 izel voi potrete giurare che io avrei presso il lumia 950 izel se me lo vendevano alla metà di un moto iz seconda generazione quindi per me il conflitto ios versus android iphone versus cellulari con android è fittizio per me va bene qualsiasi cellulare o smartphone mi convenga comprare ci abbia il blackberry os ci abbia l'android os ci abbia l'iphone ios ci abbia il simbian ci abbia l'S40 ci abbia l'anabel che ne so il window phone e tanti altri sistemi operativi che magari non sono conosciuti perché molto minoritari sia della marca che sia se il prezzo mi conviene e magari un cellulare molto versatile che fa molte cose a me che me ne fotte di tutto il resto lo compro magari quel giorno mi vendono un cellulare nuovo in scatola che è rimasto nel magazzino di qualche grande negozio della Nokia che c'è sistema Symbian e funziona molto bene e addirittura con reti sociali e me lo vendono a 50 euro io lo compro magari c'ho un presupposto anche per comprare un Samsung però mi compro pure quel cellulare capite no? quindi è un problema solo di soldi non di quale marca comprare più soldi hai più puoi decidere magari ti compri un allo stesso tempo un iPhone 7S Plus e un Samsung Galaxy Note 5 Edge Plus perché no? se c'è i soldi fallo quindi per me il problema iPhone versus Android è puramente surrettizio non bisogna essere fanatici ma pragmatici vai a comprare e magari ci sono degli sconti sensazionali e torni a casa che ti arriva a piacere con un cellulare che non avresti mai comprato perché in quel momento risparmi il 50% quindi ritorni a casa con un iPhone quando magari da tutta la vita avresti comprato un Android o magari ritorni a casa con un Android perché hai avuto uno sconto quando magari andavi col denaro sufficiente per comprare un iPhone 6S Plus perché magari risparmi la metà o meno della metà quindi ecco mi mancano 48 secondi spero che questo monologo questa diatriba su cosa sia meglio comprare vi sia piaciuta votate like e mi raccomando commentate nel canale nessuno ha chattato questo questo programma presto inviterò i miei amici di Facebook a vedermi comunque mancano 19 secondi non voglio aprire un altro programma taglio qui dal vostro San Ten Chan ciao e da presto grazie di avermi seguito